ciao tonio che cos'è questo allora questa scultura è stata fatta su un tronco d'albero d'ulivo e l'ho dedicato alla donna e l'ho chiamata per questo l'ho chiamata mondo don mondo donna perché perché qui c'è una donna nuda con le mani con le braccia si 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 che regge regge e racconta diciamo la vita della donna allora questa questa palla qua ecco è tutto il peso della diciamo della donna che deve curare i figli deve mantenere la casa deve lavorare cosa c'è questa questa scultura di donna che vediamo qui con i capelli contorti così la vita contorta della donna dei problemi che ha diciamo di salute con il marito ma quindi non è casuale è proprio voluto ogni segno ogni pezzo che è stato scolpito a un motivo perché è stato scolpito invece qui vediamo un una testa di un pelino che questa è la donna che soccombe alla testa che si rappresenta la virilità la farina l'uomo che sottomette con la sua forza alla donna ho capito poi qui abbiamo un viso di donna un viso di donna si 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 riesce fuori da cose che poi vediamo un cappello come il cappello del papa e per questo io l'ho chiamata la donna la papessa ha capito 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 è l'aristocrazia diciamo della donna è riferita proprio al riferita proprio al al potere del sia al potere della donna qui vediamo la donna quando diventa vecchia vediamo si si invecchiamento della donna capito ma ci sono anche altri simboli invece questa è una donna fatta a simbolo araldico per rappresentare alla donna diciamo aristocratica ho capito l'aristocrazia diciamo della donna cosa diciamo quelli che comandava invece qui vediamo la testa di un montone si 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 la testa di un ogni ogni angolo qua è deciso non c'è tutto inciso ma questo è pezzo unico torno mamma mia e che legna questo legno duvido mamma santa c'è che era fatto è proprio bello un pezzo veramente simbano molto io l'ho chiamato mondo donna ok è stato dedicato tutta la donna diciamo la vita della donna diciamo i problemi e cosi e lo ha voluto rappresentare un omaggio diciamo un omaggio alla donna alla vita della donna i sacrifici che comporta la donna e questo è appoggiato è appoggiato su una base che si muove diciamo che uno volendo volendo diciamo il tronco è un tronco intero è certo per vedere tutti i lati e per vedere tutti i lati anche per agevolare la visione bellissimo questo è molto bello di qua si vede benissimo la testa di un montone si si che rappresenta diciamo il montone il toro rappresentano la forza la verità l'uomo rappresenta l'uomo che sottomette la donna e la donna che sostiene tu che sottile a peso diciamo della vita diciamo la crescita dei figli il lavoro ed effettivamente così nella casa pulita e diciamo subire anche la prepotenza e la forza dell'uomo ok allora questo posso dare un'occhiata così attorno attorno per questo è un proprio un laboratorio questo è un laboratorio questo è dedicato a una scultura questo invece se leonardo da vinci che con le sue invenzioni queste cose che inventava ma questi sono comunque sono pezzi che hai esposto alla mostra di palazzo pesce ma non tutte perché vedo che ci stanno un sacco di cose qua questo invece è tutto attorno attorno tutto tutto scolpito e con quello è una struttura torni a titolo informativo ma tu ti sei fermato a fare questa mostra o devi fare altre non ho delle altre mostre se diciamo c'è la possibilità di poter fare al piano perché molti chiedono io sono molto interessati io sono disponibile a fare altre mostre altre mostre quindi diciamo passiamo la voce su questo stavi dicendo io faccio anche sculture su basso rilievo su portale vecchie come questo qua per esempio questa è una delle ultime che io ho fatto e questo rappresenta l'austale siccome io ho viaggiato molto sono stato diciamo fatto delle crociere in australia per quasi otto anni e ho visto come vivevano gli aborigini e così mi è rimasta impressa la vita aborigina e ho voluto scoltire su una porta vecchia una testa di un aborigino e una una persona diciamo che facevano degli dei graffiti su sulle rocce cose eccetera eccetera ho voluto fare anche dei simboli degli aborigini che questi sono conosciuti molto bello dedicato anche alla donna la ballerina quello invece questo è un achille achille mi sono la medusa questo è un ultimo che ho scortito questo questo qua invece l'ho chiamato barriga cioè gli avvocati quando quando dipendono quando difendono e così oppure si può benissimo abbinare diciamo gli avvocati nei tempi dei romani che diciamo i saggi i saggi che parlavano infatti che parla ma sono sempre riferiti omaggio a qualcuno qualche personaggio questo personaggio diciamo a nome romano e così bene orator ad evocatus ok ok scusa se sorrido ogni tanto perché sono belle tutte queste cose e poi il modo il modo che tu descrivi ma c'è l'opera sacra anche c'è la passione di cristo certo e quello invece l'urlo diciamo questa struttura qui è stata fatta su un sacco di giuta a queste parte sul sacco di giuta e senza fare disegno e cose direttamente direttamente l'ho voluto fare così diciamo diciamo che abita ti ha guidato lo spirito santo scherziamo anche un buco perché questo l'ho voluto chiamare la sofferenza perché c'è il lamento che il cristo vede forse vedendo le cose come vanno oggi che non c'è più umanità non c'è più che cosa diciamo soffre non l'ho voluto fare che viva come l'urlo di munne diciamo è bravo bravo ma è in fatto riferimento anche a un'opera molto famosa e poi ci sono tante altre opere sì 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 ma io mi sono sbizzarrito a girare un po' attorno se qualcuno vuole che faccio qualche altra mostra sì ma le richieste stanno la curiosità c'è stata quelli che hanno visto la mostra questa del palazzo pesce e quindi diciamo adesso è diciamo che una una piccola rivisitazione ci sono altri altri pezzi altre cose anche per vedere questa è bella sì 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 assolutamente ma questa questa ci stava una una signora con la figlia che mi ha suggerito alla mostra gli ha fatto ricordare la primavera di botticelli per il fatto del vendi i capelli al vendico magari quella primavera di botticelli c'è la a destra e questa c'è la sinistra però però è un bel pezzo oppure a questo ogni pezzo è singolo capire stanno delle cose molto belle sì 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 dove voglia accommodation a mall e voglia mangiare a comune mangia no è perciò dico io qua ma quella che cosa è quello l'avevo vista terra quello è un disegno questo l'ho comprato se non mi sbaglio da due l'ho comprato in australia dagli aborigini ed è fatto almeno così mi dissero ed è fatto su una specie come una corteccia d'albero pressata come facevano gli antichi egiziani con il papiro ho capito e poi ho fatto i disegni che facevano loro gli aborigini i colori degli aborigini eh sì e questo e poi l'hai istesa tu perché mi pare che mi facessi vedere che era arrotolata quella l'hai conservata parecchi anni eh quasi 40 anni ah faccio tu perché ce l'ho io sono quasi 40 anni l'ho comprato nel 72 bello bello in australia bello anche nel nord dell'australia poi ci sono anche queste altre sculture no vabbè comunque valeva la pena rivisitare perché comunque io mi sono incuriosito su quella cosa di questo sì questi sono pezzi che ormai c'è qualcuno che li riconosce subito perché lei lei esposti però è solo che da vedere vedrai che le richiede però qua tronchi d'albero e tu a quando e trasforma sì 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 ogni cosa ha una storia quella cosa diciamo sì 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 fammi fammi fare questo voglio chiudere in bellezza con l'ultima opera questo che mi pare che da finire questo dovrebbe rappresentare il rispetto e si è sì con i suoi casi vede il ciucco che canta con la smorfia di di quando ballo delle gambe il corpo quindi è da finire questo questo ha fatto questa lo fa le braccia questa pure mi pare sarebbe bello oppure un giorno mettersi e fare anche quello che fare l'albero magico e fare come come trasformi il legno il legno in opere d'arte in opere d'arte proprio bello a vedere a vedere perché stanno degli artisti i capelli che sono avanzati e questa è la testa pelata che può essere pure un saggio che può essere pure un saggio tu invece come sembra i capelli non li perdi per fortuna eh sì e per chi per chi ci tiene ai capelli sì è chiaro che per fortuna questi sono dei pezzi che tu realizzi dopo delle opere questa questa cosa una porta una pina e questo è l'ultimo capolavoro vabbè quelle la conosciamo l'hanno conosciuta però questo è l'ultimo capolavoro che mi pare che mi hai raccontato che non è finita devi fare dei ricami attorno come gli stemmi araldici attorno attorno comunque mi prometti che non non modifichi che si lasciano vedere legno ecco perché questo è bello così e che questo è fatto su una porta vecchia quei due pezzi diciamo il re della regina questi due pezzi di legno era un tronco intero che io ho tagliato a metà però questo tronco è stato recuperato a mare ho capito è stato quando fanno le mare le forti mareggiate è stato spiaggiato io sono passato l'ho visto e quindi questo diciamo è diviso in due si 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 è diviso in terra era tutto intero e tu hai quindi diciamo questo invece è un recupero di una porta vecchia che marcia diciamo mezza marcia che l'hanno che l'hanno originale antica perché stanno 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 anche questo è un pezzo storico non è che si vede perché originale si 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 quindi tutti chiodi e coso tutti tutto tutta roba io ho tolto solamente quello che diciamo si stava marcia marcia rovinando marcio ha recuperato tutto il buono che c'era della porta e poi lo passano con un regnano quindi allora per fare questo pezzo oltre ai ai simboli araldici che hai detto che metterei attorno attorno per creare un vicamo questo è un omaggio alla monarchia alla monarchia che non sono i savoia ma sono quelli quelli personaggi dalla fantasia sì che ammora comunque hanno fatto anche parecchi in puglia i borboni e federico da ragona insomma abbiamo vi respiriamo ancora la storia attraverso le opere che hanno fatto che hanno fatto chiaramente se è tutto federico federico quindi un omaggio a loro che poi quando finisci ci sarà da vedere ancora il ricamo che faceva torna la cosa ok grazie tonio chiudiamo qua